Ciao bambini, oggi costruiremo insieme le maracas e le costruiamo con il materiale che abbiamo in casa, quindi con il materiale di riciclo. A questo punto per costruire le maracas ci occorre un rotolo dello scottex o della carta igienica, del riso, un cartoncino, un po' di carta crespa, delle forbici, la colla, due pezzettini di nastrino e una matita. A questo punto prendiamo il rotolo dello scottex, lo appoggiamo sul cartoncino e disegniamo due cerchi, uno e due. Poi li rintagliamo, io già li ho rintagliati, eccoli, allora, mettiamo la colla sul bordo del rotolo. Ci poggiamo sopra il cartoncino che abbiamo tagliato, lo facciamo asciugare un attimo, lo giriamo, ci versiamo dentro il riso. A questo punto prendiamo l'altro cartoncino che abbiamo tagliato, mettiamo la colla sempre lì sul bordo, ci poggiamo l'altro cartoncino e lo facciamo asciugare. Prendiamo la carta crespa, l'apriamo, prendiamo il nostro rotolo che abbiamo costruito e per avvellire le nostre maracas lo avvolgiamo nella carta crespa o in un cartoncino che avete a casa morbido. Poi lo chiudiamo da una parte con il nastrino e dall'altra con l'altro nastrino, così che otteniamo una bella caramella. La nostra maracas caramella, allora, ecco, la nostra maracas è pronta, poi la potete avvellire come volete, con la vostra fantasia la rendete più bella. Allora, bambini, mi raccomando, divertitevi tanto e mandatemi tante foto. Un bacio, buon divertimento!